Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin all'appuntamento settimanale con il Manga News 24. Intanto scusate per la voce ma non sto benissimo in questi giorni, dopodiché però come sempre andiamo a vedere quali sono le notizie più interessanti degli ultimi giorni e andremo anche a scoprire che cosa si potrà acquistare in fumetteria e negli store online nel corso di questa settimana. Prima di iniziare come sempre vi chiedo solo la cortesia di lasciare un like e un'iscrizione al canale. Per voi è un gesto completamente gratuito, per me è il supporto più grande che mi possiate dare. Ora invece andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. Avevamo parlato qualche settimana fa di un possibile arrivo di una Deluxe Edition di Tokyo Ghoul da parte di J-Pop. Ebbene, non c'è ancora l'ufficialità della casa editrice però è spuntato questo prodotto anche su Amazon, quindi sarà a significare qualcosa. Diciamo che ci sono varie voci a riguardo, tra le quali c'è anche quella che sarà venduto sia con i volumi sciolti ma anche con un paio di cofanetti che andranno poi a racchiudere un tot di numeri. Il link che vi lascio in descrizione di Amazon molto probabilmente, visto il prezzo, andrà a racchiudere i primi quattro numeri della serie. Il prezzo, come avevamo già detto, dovrebbe aggirarsi intorno ai 19€. Se poi invece il prezzo, che leggete qua sotto, va a racchiudere tutta la serie, ragazzi, è un prezzo stra 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 scontatissimo. Vi dico la verità, io intanto l'ho ordinato. Se racchiudo i primi quattro numeri e costa 19€ vado ad annullare l'ordine. Altrimenti, se il prezzo è quello di tutto il cofanetto, vado a tenermelo molto 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 stretto perché è un prezzo veramente vantaggiosissimo. Altri due titoli che arriveranno prossimamente sempre di casa J-pop saranno Iki Mandala di Osamotezu, che è una storia in due volumi, e La Conquista del Cielo, che invece si tratta di un volume unico. Ho fatto anche uno short a riguardo e arriveranno nuovi doppiaggi per quanto riguarda Crunchyroll. Infatti la piattaforma streaming ha annunciato tre nuove serie che riceveranno il doppiaggio in italiano e sono Chainsaw Man, serie attesissima da tutti coloro che non guardano gli anime sottotitolati, Two Your Eternity e The Unset Magus Bride. Per quanto riguarda invece Ariadne in the Blue Sky, una serie che forse abbiamo iniziato ad apprezzare un po' di più da quando l'autore si è presentato a Lucca ed è venuto come ospite, ha comunque una data di fine adesso, infatti per quanto riguarda il mercato giapponese si concluderà nel corso del mese di marzo, ma sappiamo che comunque il numero 22 sarà l'ultimo volume per questa serie. Abbiamo anche delle date e dei prezzi per quanto riguarda Ranking of Kings e Witch Watch, in questo caso ovviamente per quanto riguarda il mercato italiano. Entrambe debutteranno nel corso del mese di maggio e i prezzi saranno rispettivamente di 6,90€ per Ranking of Kings e 5,90€ invece per Witch Watch. Ultime due notizie sono che è stata rivelata la cover variant per quanto riguarda Earthgear, dallo stesso autore di Black Torch, e sarà in uscita a febbraio per Planet Manga ovviamente, e invece Honor Off, webtoon coreano che era stato messo in pausa per gravi problemi di salute dell'autore, riprenderà ufficialmente nel corso di questo mese la pubblicazione in patria. E ora ragazzi, mettendo da parte le news e passando invece a parlare di quelle che saranno le uscite di questa settimana, iniziamo come sempre da Star Comics, che vedrà dopo un leggero rinvio l'uscita di Demon Slayer, il volume numero 22, nonché penultimo numero della serie, e uscirà sia in versione regular e sia in una limited edition con alcune spillette in allegato. Tornerà ad uscire anche Echoes di Kei Samba, che arriva al volume numero 10. La new edition di Fairy Tail arriva anche in questo caso al penultimo numero con l'uscita del volume 62. In The Clear Moonlight Dusk arriva al volume numero 3, Noggan's Life prosegue col volume 13, Scam Swish arriva al terzo volume. Ci sarà anche un debutto nel corso di questa settimana, si tratta del Boys Love Lullaby of the Dawn. Passiamo ora in casa J-Pop, dove vediamo il ritorno di Radiation House. Vi chiedo scusa per avervelo detto anche settimana scorsa, ma c'è stato un rinvio un pochettino all'ultimo momento, l'undicesimo numero di Radiation House uscirà questa settimana. Ci sarà il debutto per chi non ha già acquistato il cofanetto di Yearhead con il volume numero 1. Tokyo Revengers, dopo che settimana scorsa è uscito il pack del numero 23 e del secondo character book, stavolta entrambi i volumi usciranno in versione sciolta. Smile Down The Runway arriva al volume numero 10, Dance Dance Dancer prosegue col volume numero 11, e avremo anche la conclusione per quanto riguarda Blue Giant. Ci sono anche alcune ristampe annunciate sempre da J-Pop, e le più interessanti sicuramente secondo me sono La Divina Commedia, sia in versione Omnibus e sia nel cofanetto che racchiude i tre volumi della serie. Torneranno disponibili tutti i volumi di Alice in Borderland, Monotone Blue, volume unico dallo stesso autore di Girl from the Other Side, e Yosi, la tigra e i pesci, che uscirà nuovamente con il cofanetto. Passiamo ora a parlare di Planet Manga, e usciranno La Leggenda di Arslan, il volume numero 17, Agente 008, sempre con lo stesso numero, quindi il diciassettesimo, Moriarty The Patriot invece arriva al volume numero 18. Proseguirà anche Demon Slave con il volume numero 7, Andy Danlac arriva all'ottavo, e finalmente uscirà Solither, l'ultimate edition, con il secondo numero. Come sempre ragazzi vi dico che Planet, spesso e volentieri, il giorno delle uscite aggiunge roba che attualmente non si può sapere. Anche settimana scorsa qualcosina in più è uscito, tipo niente magari di eccezionale, ma qualcosa che stavate aspettando magari c'era. Kingdom Hearts è la seconda stagione, il volume numero 3, nessuno lo sapeva che sarebbe uscito e invece è arrivato. Kitchen of WeChat è uscito settimana scorsa e nessuno lo sapeva con il quarto numero, e così via qualche altra piccola uscita che attualmente non esiste sul loro sito. Quindi le uscite ufficiali di Planet si potranno sapere soltanto il giorno esatto che ci troviamo in fumetteria e vediamo che cosa è arrivato. Però ci sono alcune ristampe che arriveranno anche questa settimana e stiamo parlando dei primi due numeri di Naruto. Ha un passo da te il volume 2, è un volume attesissimo e anche però il numero 15 di One Punch Man. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Piccolo inciso, le uscite di Ikari che avevamo nominato settimana scorsa, quindi Gannibal Cinema, eccetera eccetera, se non le avete trovate settimana scorsa vuol dire che le vostre fumetterie arrivano questa settimana, quindi rimangono sempre le stesse. Io ora vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, vi mando un abbraccio grandissimo, spero vi possa essere stato utile. Vi chiedo solo la cortesia di lasciare un like e un'iscrizione al canale, per voi un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare. Io vi mando un abbraccio grandissimo e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!